Migliaia e migliaia di famiglie e lavoratori dopo due mesi attendono le risorse della Cassa Integrazione Interroga. Nel frattempo l'aggiunta lenta aumenta gli stipendi ai manager e ai dirigenti e concepisce una norma, quella sulle transazioni, che potrebbe purtroppo rischiare di erogare a qualche privato ben 162 milioni di euro di richieste. Da un lato dunque migliaia e migliaia di lavoratori, famiglie e imprese attendono e dall'altro lato si concepiscono aumenti per manager, per dirigenti e si prevedono risorse in uscita per delle transazioni che andrebbero a poche imprese. È uno scandalo che abbiamo denunciato anche alla procura della Corte dei Conti. Per finire un aspetto su questo punto delle transazioni, ogni euro accantonato in sanità per queste motivazioni sono soldi tolti dal Fondo Sanitario Regionale e quindi dall'assistenza, dai livelli essenziali di assistenza, dalle cure delle persone. Ecco perché denunciamo tutto questo. Giunta lenta, muoviti. Bisogna erogare immediatamente ai lavoratori la Cassa Integrazione Interroga e non bisogna procedere con quella norma condono tombale che è un vero e proprio scandalo.